Non si ferma la raffica di furti in città che sembrano firmati tutti dalla stessa mano, viste le modalità con le quali si sceglie l'esercizio e si effettua il colpo. I malcapitati presi di mira sono i titolari di bar e chalet del centro storico e di periferia, che nella maggior parte dei casi fanno la conta dei danni e non del fondo cassa maltolto, corrispondente in quasi tutte le casistiche a pochi spiccioli. Dopo i furti al bar Florida di Piazza Duomo, allo chalet della Villa Comunale, al bar Rice, di Colle Sapone, la dinamica si ripete per lo chalet di San Bernardino, dove in meno di tre mesi i ladri hanno fatto visita per la seconda volta. Gestito dal popolarissimo Leonardo Sprivera in arte Leo, lo chalet di Piazza San Bernardino è dotato di un sistema di videosorveglianza allestito a spese della proprietà. Le telecamere hanno infatti permesso così di profilare un primo identikit del malvivente, che ha agito in pochissimo tempo da solo, sfondando la vetrina del bar con un tombino e che potrebbe in qualche modo essere lo stesso ad aver commesso anche gli altri furti. L'uomo di alta statura, con un trench indosso e una parnanza sulla testa, secondo quanto visto dalle immagini del sistema di sorveglianza, una volta entrato nel bar, ha aperto la cassa e con molta disinvoltura ha portato via il fondo, lasciando addirittura gli spicci a poche centinaia di metri, insieme agli indumenti indossati per non essere riconosciuto. Un bel colpo, ironizza Leo, se lo incontrassi gli farei addirittura complimenti. Il pennesimo furto dopo appena due mesi, come sono andate le cose? E niente, a mezzanotte è squillato l'allarme, siamo venuti qua e avevano rotto il vetro, ma ha già compiuto il fatto, ha già fatto tutto. Abbiamo chiamato la polizia, è venuta, ha fatto i lievi, ma comunque solo danni, perché come rifultiva niente, quasi niente. Ma hanno rotto la cassa, il registratore di cassa e il vetro. Poi queste cose, più danni, dai, che roba. Cosa ha rilevato dal sistema di telecamere della videosorveglianza, che peraltro lei ha installato a sue spese? Sì, allora è venuta poi la mattina la scientifica, ha rivisto sul videoregistratore quello che era successo, è un ragazzo, sarà da solo, con un trench lungo, poi una mappina, diciamo, sulla testa e basta. Non si riconosceva, quindi è impossibile riconoscerlo. È venuto due o tre volte con questo tombino in mano, ha rotto il vetro, è entrato, quindi ci ha messo per entrare nel cassetto della cassa e uscire, entrare, 12 secondi più o meno. Secondo lei sono sempre gli stessi o a questo punto è sempre lo stesso a commettere reati di questo tipo, dopo il Bar Florida, Chalet della Villa, Bar Rice? Sicuramente sì. Eppure la prima volta è venuta a me, l'altra volta è venuto con un blocchetto di cemento e stavolta con il tombino. Quanti danni? Beh, penso intorno al 1000 euro, tra il vetro, cassa, il registratore, tutto quanto, sì. Che sente di dire al microfono oppure alle autorità competenti, alle forze dell'ordine? Non gli si può dire niente, non puoi dire niente perché purtroppo contro che gli va a fare, come si fa, non gli fa di niente, perché solo per niente ce n'è, ma questi approfittano i momenti in cui non passa nessuno, oppure ormai l'Aquila è una notte isolata, non è che ci sia gran chiede di movimento, e quindi è facile entrare. Poi specialmente con questi mezzi che hanno loro, che ci fa? Per il fulto allo chalet di Piazza San Bernardino sono in corso le indagini condotte dalla squadra mobile della Questura dell'Aquila. A Preturo invece la notte scorsa sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale, allertati dai titolari del bar Pantera Rosa, dove i gnoti hanno dapprima sfondato la vetrata dell'esercizio e immediatamente dopo, in poco tempo, scassinato una slot machine, portando via anche in questo caso un misero bottino.